Sì, questa seconda parte di 2017 è stata positiva per noi perché siamo alti a classifica e vogliamo andare a Serie A. Così è positivo e meno positivo perché stanno stati fuori 4-5 partiti. Per me questo non è positivo, ma è positivo perché già raggiungo 10 gol. Ora sto bene, Fortunio è dentro di mie spalle, è brutto vedere i compagni come giocano, come fanno tutto per vincere, tu sei a tribuna, questo non è bene. Voglio ringraziare i fisioterapisti per questo che ha fatto per me. È normale che sei capitano di una squadra che senti di più responsabilità e per me non c'è nessun problema che prendo questa responsabilità e voglio tornare a Palermo dove meriti. Ho imparato tanto dal calcio italiano, prima di tutto ho imparato tattica e sono orgoglioso di questo. Si vede, tutti che guardano i nostri partiti, si vede che noi siamo uniti insieme, solo così insieme possiamo andare a Serie A. Servire a solo questo che per ora facciamo, tutti uniti, tutti insieme, tutti i partiti andiamo 100% da massimo e dopo sono sicuro che andiamo a Serie A. Sarà troppo importante perché con loro come dodicesimo uomo siamo i più forti di tutti. Io ho detto 10 volte, se loro vengano 20-30 mila persone al stadio nostro, noi vinciamo ogni partita a casa con 3-4 gol di più. Io mi auguro a me, voglio stare bene e voglio andare a Serie A con Palermo. Io mi auguro a me, voglio stare bene e voglio stare bene e voglio stare bene e voglio stare bene.